Nello stand Idea Group con Riccardo Gava, Art Director dell'azienda e del gruppo, com'è strutturato il gruppo? Intanto benvenuti nel nostro allestimento, il nostro marchio Idea Group è strutturato con 4 brand, Idea, Acqua, Glob e Disegna, i primi 3 marchi Idea, Acqua e Glob si occupano della produzione di mobili da bagno, mentre il brand Disegna si occupa della produzione di cabine doccia, la diversificazione dei prodotti va sia dal punto di vista del collocamento economico e ovviamente anche nella scelta delle finiture e della qualità del prodotto stesso. Le collezioni e le novità, cosa presentate a seconda anche dei diversi posizionamenti di prodotto? Abbiamo presentato un paio di nuove collezioni qui al Ciasaie 2010, andando a lavorare su un discorso di colori, di materiali nuovi, di laminati particolari e andando a spingere su colorazioni pastello, colorazioni nuove, colori che noi definiamo non colori e queste sono un po' le novità. Se dovessimo scegliere un prodotto simbolo per Idea Group per la comunicazione e l'immagine, questo Ciasaie 2010, di cosa dovremmo parlare? Io credo che il prodotto che noi presentiamo in anteprima si chiama Cubic, è un prodotto che già dal nome si capisce, ha delle linee molto sobrie, l'assenza completa di maniglie e la chiusura delle antine a 45 gradi, quindi si presenta come un monolite e questa credo sia la collezione che per il periodo che stiamo vivendo sia quella che ci rappresenta nel modo Grazie a tutti